Quei dannati sette capretti. Questa è una rivisitazione della fiaba classica del lupo e sette capretti, dove un lupo grosso e affamato cerca appunto di andare a mangiare i sette capretti approfittando dell'assenza della mamma capra in casa. Quindi si traveste, è pronto, bussa la porta, entra, ma inaspettatamente si trova davanti ad una selva domestica, cioè una casa completamente ribaltata, disordinata, piena di cose. E dove li trova i sette capretti? Non riesce, non riesce a vederli, si sono nascosti talmente bene in tutta questa confusione che inaspettatamente il lupo deve prima fare una cosa, e cioè riordinare tutto. Ed è qui che c'è un gioco molto divertente, cioè quello che a noi è sempre apparso come il grande lupo cattivo, qua invece diventa un lupo domestico, un lupo ordinato, a cui piace pulire e vedere tutto in ordine. Poi sì, lo scopo è sempre quello di mangiarsi i capretti, però questa sua caratteristica di personaggio molto ordinato la mette proprio in evidenza in ogni stanza. E i capretti, che invece sembrano sempre personaggi molto teneri, molto docili, qui si dimostrano a essere molto maleducati, quasi irriverenti, molto disordinati, mettono tutto sotto sopra e quindi al lupo tutto tocca riordinare. È una selva domestica come potrebbero essere molte delle nostre selve domestiche, molte delle vostre camerette. Però anche qua, come in tantissime altre storie che vi abbiamo raccontato, il finale è davvero sorprendente. Riuscirà il lupo a mangiare questi sette capretti? Oppure riusciranno i sette capretti a nascondersi così bene? Oppure, chi lo sa, a voi la scoperta.